abbiamo iniziato ciao monica ciao viaggio impegnativo oggi per la nostra amica andrea conto da 5 a 1 5 4 3 2 1 dimmi come la vedi e dimostra come una specie di cortometraggio mi mostra un piccolo robot sul petto di questo piccolo robot c'è un cuore sgranato perché formato dai pixel vedo che sta correndo questo piccolo robot verso due banane una è molto matura l'altra è un pochino più acerba questo robot nell'inseguirle cade e cadendo si trasforma in un personaggio dei cartoni animati bel di belle la bestia ed è lei andrea bello e anche il robottino lei chi è la bestia quella è la seconda fase noi in cui lei vorrebbe entrare come in una fiaba alla ricerca di questo principe che è in grado di amarla ma che ha esteriormente queste fattezze mostruose perché lei è anche attratta da attrattere spinta allo stesso tempo da ciò che può sembrare mostruoso ci dà l'autorizzazione andrea sì un po come dandosi come dei pugni in testa perché vorrebbe un po' sgomberare questa testa alleggerirsi liberarsi ci vuole dare l'autorizzazione in un modo bello non masochista io vedo che riesce a fare così perché sta un po anche piangendo vedo che ha il volto bagnato e vedo che continua a grattarsi la testa momento in questa fase della sessione così però è molto determinata a volerla voler andare avanti scopriamo insieme ad andrea il nome del progetto che ha scelto per questa vita mi viene un po spesso mi viene con questo sarcasmo no divina provvidenza perché è sarcastico ma perché c'è questo dio che si occupa di mettere in ordine in qualche modo le cose anche attraverso varie peripezie quindi comunque un dio che è esterno un deus ex machina no che lui che tira i fili di tutto quanto è anche un'entità eterica per andrea nel secondo universo si chiamiamole chiamiamo subito questo deus ex machina perché per come si manifesta è anche abbastanza innocuo perché c'è proprio questa tendenza io vedo in andrea a presentarmi le cose a volte in maniera molto innocua innocente no sotto forma un po di cartone animato un disegno poi però è come se mi facesse intravedere la profondità e la drammaticità quindi questa entità del secondo universo me la presenta inizialmente come un fantasmino con il lenzuolino ad os in realtà qual è il suo aspetto reale ma look così come fatto moloch adesso io lo vedo con due corna lunghe con delle ali con tanti in tante piccole creature ai suoi piedi sulle ginocchia seduto su un trono vabbè poi quali altri ci sono nel secondo universo questa primo universo vedo il gatto con gli stivali è una mantide il gatto con gli stivali felinoide un'aquila il coccodrillo e 4 dl vibrazione 4 miliardi consapevolezza 119 ps 40 vite 1992 cervello ottene mezzo entità mentali vigliaccheria florida povertà grazie morbo di kronenberg 4 conemberg il regista il gioco di parole morbo di cron livelli allora vigliaccheria però me li scambia qua cioè i livelli sono tre quattro cinque sei mi fa vedere come praticamente non so come dirci una specie di scacchiera in cui talvolta cambia le posizioni delle pedine al momento attuali al momento attuale vigliaccheria e 3 poi allora la povertà florida florida 34 grafen 5 e 6 il morbo di di kronenberg va bene vediamole tutte partiamo da vigliaccheria dunque un'entità mentale che la porta a vivere ripetutamente delle situazioni un po' meschine in cui sia lei che gli altri attori chiamiamoli così della situazione si comportano in maniera vile ok vigliacca meschina si scambiano un po' i ruoli ok alle volte lei che si comporta così alle volte sono gli altri a comportarsi così c'è alla fine comunque sai no è un gioco combinato florida povertà ma un po' me la dice anche quasi come se fosse una sorta di eredità ecco no un po' questo concetto di svincolarsi difficilmente da una diciamo così situazione economica molto stazionaria bassa ok e come se in un certo senso ci fosse anche diciamo così il l'input sbagliato culturale che comunque la povertà può anche andare bene può essere anche una cosa tutto sommato positiva e quindi questo vedo che lei non riesce forse forse neanche più di tanto a concepire la sua vita nella abbondanza nella nella prosperità nella ricchezza ecco ma su più fronti sia sul fronte proprio di guadagni sia sul fronte proprio anche di opportunità occasioni lavorative e occasioni anche sentimentali rimanere un po povera così nel cuore e nel portafoglio graffi quella entità mentale che le fa avere un rapporto un po' dolce dolce ma quel dolce che può anche raggiungere il nauseante e quindi quello che può essere positivo e può diventare anche molto fastidioso e negativo ed è tutto ciò che attiene al rapporto con il padre ma proprio tutto a 360 gradi dolce amaro dolce amaro di più è un dolce nauseabondo perché è un rapporto da un lato fortissimo idealizzato e poi per altri aspetti anche dolorosissimo no proprio come diceva lei il crash n è troppo calorico ha delle conseguenze stavo per dirlo ha delle conseguenze morbo di kronenberg qui allora kronenberg io non è che lo conosco benissimo è come regista però certamente lui insomma è conosciuto come un regista che si occupa di tematiche anche molto morbose no quel quell'horror un po' macabro che ha a che fare molto anche con i corpi che si trasformano in maniera anche un po' orribile quindi anche gli esperimenti sui corpi questo corpo che sempre un po' martoriato non accettato poi questo corpo che alla fine è il teatro della mente no su cui si ripercuotono no tutti i nostri tormenti mentali ok quindi comunque questa un po' morbosità anatomica quindi tutto ciò che ha a che fare con anche i suoi timori delle morbosità timori che andrea ha rispetto a delle psicopatologie che sono per lei partono dalla mente e arrivano chiaramente al corpo corpo di cui si vergogna perché si vergogna del pensiero ok questa perversione no di chrome che poi alla fine non è una perversione fine a se stessa ma è per conoscere a fondo quello che è l'animo umano ok noi siamo qui riuniti per pregare noi siamo qui e facciamocela una risata sì che bisogna anzi facciamoci una risata energetica siccome siamo immersi in una storia un po' triste se vogliamo creiamo un piccolo ad eternum che mettiamo in centro alla stanza che alza tutte le frequenze quindi ho lo credito contento ah io qua adesso faccio paura invece questo riduce un attimo fa capire un attimo a queste entità chi comanda siamo noi che comandiamo loro sono qui ne dobbiamo capire delle cose grazie a loro poi fuori dai co così che funziona quindi lo mettiamo piccolo piccolo se no se spazza via tutti in centro alla stanza chi lo fa tu andrea o io andrea vedo che si mette al centro della stanza io la vedo anche un po' come primitiva lei no viene lì con questo questi capelli tutti scarmigliati e vuole come accendere il fuoco in maniera primitiva con un pezzettino di legno e una pietra e creare così la d'eternum lei alla carica primitiva primordiale primigenia molto forte benissimo chiediamo ad andrea alla sua ps perché dopo 1992 vite o con 1992 vite contemporaneamente in questo momento in corso di realizzazione oggi si è regalata questa dove parte un po' da zero dove si mostra primitiva dove si è regalata vari ostacoli interessanti mi porta molto l'attenzione sulla madre e se non riesca a capire del tutto il motivo mi fa vedere come se avesse bisogno di fare uno scatto notevole in questa esistenza qui cercando di comprendere empaticamente tutti i personaggi di questa vicenda molto complessa di comprenderli allo stesso tempo pur provando comprensione per loro mi fa vedere che si stacca da loro vola sopra di loro questa insistente figura della madre che poi lei invece non si è soffermata e sulla madre mentre ci parlava come se volesse ma chi lo sa non capisco sai rispetto alla madre magari poi mi si chiarisce dopo adesso non capisco perché guarda così tanto verso la madre come a chiedere un qualcosa alla madre che però la madre non le può dare ci sono state vite insieme tra lei la madre aiuto aspetta un attimo perché qua mi fa vedere la madre che la investe in auto e se ne va in un'altra vita un altro ancora a vedi come se lei chiedesse questo aiuto alla madre c'è tipo come da quella vita chiede questo aiuto non te ne è come dire non te ne andare anche questa volta no però appunto lo fa in questa forma non diretta schietta un po come in quella vita lì in cui ovviamente l'aiuto in quel momento non poteva proprio chiedere no però anche in questa vita è come se avesse b bisogno di lei non lo chiede chiamiamo nel cinema anche il padre e lo zio e vediamo se ci sono state vite con il padre e quello zio ma lo zio mi viene con tipo topo gigio accompagnato da topo gigio come non abbia interrotto del tutto il suo cioè non abbia non interrotto non abbia trasformato correttamente il proprio vissuto infantile e quindi se lo porta ancora dietro e vedo che questo topo gigio è tipo un ciondolo che lui ha attaccato al al passante dei pantaloni e gli arriva proprio davanti al tube no topolino e papà questo lo zio sì il papà mi viene vestito in maniera da funerale perché che dice che qua muore qualcosa nasce qualcosa muore la vecchia andrea nasce facciamo mettere ad andrea per festeggiare questa bella frase un piccolo nuovo ad eternum al centro della stanza la vedo ancora sotto forma così un po primitiva però adesso la vedo più divertita bene si vuole dare una sistemata i capelli perché le piace questo modo selvaggio di presentarsi adesso si fa una risata ma una risata cosciente un po divertita è no per ora è divertita come se stesse iniziando a comprendere la sua capacità creativa lei li frega tutti adesso molto bene bad person andrea una cattiva persona è così prima domanda alla sua p e non so se me lo dice per me mi dice perem pruner si chiama la pie che che poi un teatro no il fondatore era uno che si occupavano di di teatro molto anche di attività con con i bambini drammaturgiche ma anche attività di strada fai no sempre del genere teatrale di strada no e mi fa proprio vedere come appunto lei abbia creato questo palcoscenico in cui davvero si possono pensare tutti i suoi parenti proprio come personaggi no di questo dramma che viene in sceneggia viene sceneggiato sul sul palcoscenico un dramma proprio che ha delle tinte un po morbose un po horror però anche tragicomiche lei mi fa vedere che qualcuno del pubblico potrebbe avere larguzia di vederne l'aspetto comico questa è la p e e la ps tf malva ma malva o malva malva mi fa vedere proprio sai la malva antinfiammatoria mi fa vedere che si fa lo può sentire le corti bide e malva impianti monica al primo proprio quello mentale che è tipo una serpentina fluorescente proprio come se fosse quasi un insegna luminosa e quel tipo di fluorescenza tutto intorno alla testa e vedo un po quasi anche a tratti impazzita se quando sta per spegnersi poi dopo di colpo si riaccende così con questa attività in costante figlia delle quattro entità mentali cioè serve le quattro entità mentali o una sola o alcune e ne si tutte quattro si 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 poi e poi detto 20 spalla destra braccio destro parte inferiore della gamba destra mano sinistra a luce sinistro chiamiamo nel cinema la presunta fiamma è la fiamma no causa esoterica del crederla la fiamma se c'è ricordiamo che andrà molto giovane ma molto giovane ma me l'ha fatto forse vedere un po all'inizio in questo sua trasformazione in bel della belle e la bestia no come se la fiamma potesse rappresentare in qualche modo un riscatto a questa vita come se la fiamma le si aspetta che possa trasformare questa bad person che lei crede di essere in una best person lui viene indifferente però chiediamo come se mi fa vedere che ti dico strana sta scena è collegata già e lui all'esterno del cinema ma è collegato con una vecchia cornetta del telefono e ascolta chiamiamo la cugina parente dello zio è strano sto cinema perché praticamente anziché presentarmi siccome un luogo chiuso me lo dà più quasi come se fosse una specie di arena e quindi vedo la cugina che non nella cavità dell'arena dove ci sono tutti i posti a sedere ma al margine esterno è proprio esterno 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 come se fosse un colosseo proprio là in cima in alto dentro ma in alto perché ultima fila è un po più fuori rispetto a un'ultima fila ecco sul muro in piedi di un colosseo diciamo allora la cugina di lo zio legato ma aspetta perché ok ho capito è un po richiamo sei all'arena di verona anche un po per questa specie di massacro questo gioco al massacro no ci sono tante arene in italia ciò colosseo l'arena di verona se si mi ha fatto vedere non possiamo avere un teatro se si si oppure anche al centro italia ce ne sono diversi no anche sull'italia ma che si sa degna se non sbaglio se c'è uno a lecce di anfiteatro però non è un l'affidato non è un'arena l'arena in effetti sono due importanti sono quella verona e roma vabbè zio dove si mette che non mi ricordo venuto con questo topogigio portacchiavi neanche poi tanto in fondo sai tendente sul fondo quarta ultima padre madre la madre è una figura un po particolare perché mi si presenta come con una specie di tunica vedo che rimane in piedi e si stringe dentro questa tunica il padre lo vedo in seconda fila tutti i colleghi e il capo mi si portano dall'altra nell'altro settore ok quindi non nel settore dove sono collocati i parenti dall'altra parte e mai il capo mi viene in prima fila però nell'altro settore questa è una cosa di nessuna importanza perché andrea sta lasciando questo lavoro e quindi tra due anni non sa neanche come si chiamano questi qua chiamiamo faccio una cosa nuova chiamiamo i futuri se ci sono capi del futuro lavoro di andrea il prossimo però non vorrei essere stata condizionata mentalmente perché ho già fatto un'associazione con quei due se di più lui sai che mi viene magari avvengono tu li vedi sì 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 vedo lui poi tanto è già tanto che non venivo dice lui sì bene gli fa un po bene vedere un po di cose al cinema sì 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 un nostro amico lei è come non so spiegarti lei c'è sempre cioè immaccabilmente proprio mi capita spesso di vederla durante le sessioni sì dai nel cinema così che gira sì 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 anche quel piccoletto cioè sì 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 lui sempre però sta scoraggiando adesso è sì sì quello fa sempre cose va in giro ah ma giusto anche anche soltanto qua ah no quello no forse no va bene non so sento che lui ha molta comprensione verso andrea riescono a trovare dei punti in comune non so causa esoterica monica delle voci 4 dl che praticamente si parlano fra di loro i 4 dl e già iniziano a creare come una specie di brusio di fondo si fanno una sorta di passaparola come se fosse l'uno nell'orecchio dell'altro e si crea come una specie di circuito di parole tra l'altro non comprensibili perché si vanno a sovrapporre ok quindi c'è una specie di caos di voci sonoro a bassissima frequenza ok questo di base e poi vedo che parte un impulso a volte da un edl a volte l'altro per affermare un concetto una frase principale una di queste frasi che vedo anche è sei squallida siamo altri esempi non combinerai mai nulla di buono perché sei venuta al mondo sei una sfigata il mondo non è giusto per te non sei giusta tu per il mondo tipo vali come una caccola non vale niente capito sei una merda ecco apprezzamenti fisici cicciona che peraltro lei non è quindi certo detto da uno che non è neanche un corpo non è che proprio una grande comunque bene nato tipo sformata sproporzionata strega lei annuisce adesso c'è una sporca strega come a dire non dove l'avevo detto ma me lo dicono spesso mangiatrice di bambini mangiatrice va bene causa azotirica delle coincidenze terribili abbiamo cercato di capirle abbiamo fatto questo esempio lei se svegli al mattino e pensa cadrò dalla bicicletta e poi cade dalla bicicletta o persone con un braccio ingessato e vede persone con il braccio ingessato questo non è proprio un esempio calzantissimo però vede coincidenze terribile le conness le connette fa una connessione con la sua paura ansia e incertezza tele anche un po profetizzato no che che il lavoro sarebbe andato a rotoli che ci sarebbe stata questa escalation del male fondamentalmente poi cioè lei sta comprendendo una lezione importantissima no che noi siamo i creatori di ogni cosa i nostri pensieri e le nostre emozioni creano la nostra realtà e lei lo sta vedendo lei ha molto di questi pensieri negativi distruttivi emozioni forti di disvalutazione di disistima e di bruttezza orripilante che poi va a concretizzare no nei nei fatti quotidiani nelle esperienze di vita anche nei dialoghi vedo come se ci fosse proprio un escalation da parte degli altri sente mano a mano che le frasi le parole si tingono sempre più di rosso di nero di viola scuro poi vedo anche un verde acido quindi come vomito ecco c'è questa escalation qua no all'inizio magari sembrano abbastanza melliflu e rose le parole e poi mano a mano virano verso questi colori sempre più marcescenti e ma anche lettero è tende a fare altrettanto infatti è tutto uno specchio no alla fine lei si specchia in se stessa nei propri pensieri nelle proprie emozioni ritrova fuori quello che c'è dentro va bene facciamo un gioco se quella trasmissione di mai buongiorno con la valletta che gira le caselle è arrivata la biondina quella di un tempo biondina o la barale la biondina e no all'altra via se bene che ride e parla delle pellicce benissimo il gioco già finito hanno già girato tutte le caselle abbiamo tre giochi il primo le caselle la frase è una parola sola sfigata la elia se ne va entra andrea e tocca tutte le lettere un'altra volta che si girano e formano privilegiata ha cambiato anche vestito andrea come vendita era entrata vestita un po da strega adesso ha come un vestito intermedio nel senso che prima era tutto nero un po stracciato o bruciacchiato adesso però ha un vestito molto gotico molto dark dark gothic elegante anche un po vittoriano si però ancora un po inquietante fai questo viola velluto un po cupo si privilegiata le piace l'accendiamo perplessità su cosa che è privilegiata è però ha vinto quindi dall'alto cadono oggettoni d'oro era la risposta giusta ha fatto male in testa a reato 1 grosso ha fatto male in testa però sono lì gotti d'ora andiamo al secondo gioco brutta cicciona è già tutto fuori tutte le letterine c'è l'idea che ride e adesso entra lei tocca tutto brutta cicciona diventa grande occasione brutta cicciona è una roba che l'ha toccata perché mi fa vedere questa strega oversize super sovrappeso non riesco a trovare modo per non capisco dove si possa esserci la chiave la girate diventa grande occasione sì ma non vedo convinzione non è convinta come come vestita ancora come strega no perché è come se adesso che hai detto così rimane grassa cioè come se effettivamente ok andrea anche molto giovane è come se le parole delle persone poi si imprimessero in lei e diventano la verità diventano quello che lei poi è diventano poi quello che accade dovrebbe riuscire a comprendere che lei ha il potere assoluto su tutto sui pensieri sulle parole sulle emozioni cioè che è da lei che parte questo input non dagli altri questo momento c'è una grande confusione sono gli altri che dicono l'ultima parola e l'ultima parola che dicono è l'assetto definitivo della situazione sebbene non coincida con il suo iniziale intento nella adesso adatta vengono gli altri si si impongono è importante sai che che andrea faccia un po di esperienze fuori da casa si allontani un po è proprio essenziale sai perché ha bisogno di mettere proprio anche una distanza fisica da certe dinamiche perché alcune cose alla fine lei non se le sa proprio spiegare e sono delle robe che la tormentano per riuscire davvero a trasformarle da prima le deve accettare che sono così poi trasformarle ha bisogno di allontanarsi un po però anche bisogno di capirle qual è la causa è un casino qua perché lei è come se arrivasse a capire poi però quello che lei arriva a capire non può essere inserito in quel contesto lì familiare perché in quel contesto lì familiare c'è un certo tipo di accomodamento ok c'è questo grafen gigante che rappresenta un po il padre anche il padre vedo che va a questo rifugio nel mondo dei dolci così belli corposoni per addolcire proprio anche la sua esperienza di vita vedo che lui ha molto sofferto bambino e quindi cosa succede che di fatto lei non non può affermare la verità ora firmare affermare fermare e così io penso che io penso che primo caso fosse sei anni che questa sia la prima di due sessioni andrea naturalmente si oggi facciamo un piccolo lavoro un piccolo sa forte un grande lavoro certo cui segnalano certi due azioni quei cambiamenti per esempio un bel allontanamento magari all'estero no 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 in italia ti fa una convivenza con delle amiche da lontani non analizzerei neanche il primo punto no quella eccitazione inispiegabile direi entità questa grande confusione con questo morbo di kronenberg no si parla tanto sì del padre però mi viene un sospetto non so perché vedo questa cosa non dico l'origine della mamma ma mamma non è italiana e vede da un paese dove girano tanta roba tanta roba specialmente del secondo universo mollo che viene da lì nella storia di andrea è connesso a quei paesi quel paese quella religione poi il modo di pensare allora molo come lo dà sulla famiglia del padre per la famiglia della madre vedo di più tipo la mantide e vedo di più magari anche un po discorso del nome del progetto di vita che la provvidenza divina quindi questo accettare ciò che dio manda è così poi se sei donna accettiamo proprio nel bene nel male dio ha deciso così per noi no dio sa nel fine ultimo il motivo ultimo di tre cose tu accetta tu pensa che io avevo tre giochi di caselle che giravano il terzo non l'ho detto proviamo proviamo l'ultima frase è quella che ti pare non vale niente devi accettare tutto sommato sei donna hanno deciso per te ma le caselle vere una volta che sono girate sono solo tre che hanno le lettere e che formano una parola certo dio andrea problema è scritto con la y perché bivio la y non bivio e poi come se ci fossero anche i cromosomi xy maschio dio e uomo o lei c'ha qualche confusione c'è un po di confusione di accettazione si di accettazione non riesce bene a capire se la sua confusione nascita all'orientamento sessuale dall'identità sessuale tanto ahimè di moda oggi tanto imposto sì forzatamente sì perché tutti come tra l'altro mentale c'è un entità mentale collettiva a cui lei connessa allora è come se lei fosse attratta sempre con questo meccanismo di attrazione e repulsione per tutto ciò che riguarda il pedosatanismo e quindi anche quest'ultima forma di controllo dei bambini che è quello di avviarli verso un percorso transgender la vedo agganciata a questo tipo di entità mentale che poi un'unica e alla fine dove le vittime poi sono i bambini sotto varie forme nella loro purezza quanti sono connessi questa entità mentale tantissimi perché ognuno si aggancia magari a una ramificazione no di questa entità mentale che è molto complessa molto articolata chi l'ha creata questa entità mentale insieme in modo che mi vedo per quelle le figure che si sovrappongono un moloch il controllo mentale e tutto ciò che riguarda il pedosatanismo sì questa è un'informazione che mettiamo dentro l'entità mentale collettiva quindi tutti quelli che sono connessi ora sanno che è stata creata da moloch moloch non è brutto cattivo che è soltanto la peggiore delle nostre creazioni morrente diciamo un passato che non ci serve più se dobbiamo ricordare e dobbiamo cambiare questo è il più vecchio ricordo la roba più vecchia le vecchie scarpe la cantina dove ci sono le robe da buttare nessuno voglia di andare a buttarle facciamo la pulizia buttiamo delle cose della cantina moloch e la cantina io vedo andrea che è armata di un pugnale vorrebbe piantarlo nel cuore a moloch perché no il gioco suo fa quello che le pare sì perché come un liberarsi sai è un liberare se stessa tutta la propria storia e liberare anche tanti altri bambini adesso è come se si stesse rendendo conto andrea del ruolo importante invece che ha in questa vita da che si sentiva spesso attraverso queste voci una nullità si sta rendendo conto che invece ha un ruolo centrale può davvero fare la differenza tante energie vada a scaricarle dove vuole perché un pugnale non 10 10 pugnali si vedo che tipo pugnale poi usa delle forbici riesce a scaricare quella che è la frustrazione la rabbia di tutta una vita della scarica su moloch il quale vedo che più di tanto sai che non oppone resistenza un po un pochettino alza un braccio come per difendersi mentre avviene questo andrea vada a farsi comunque una pulizia del corpo emozionale via la paura la rabbia la vendetta tanta vergogna la vergogna via tutto lo faccia serenamente tanto repressione ecco vedo anche tanto giudizio verso se stessa cattiva considerazione considerarsi una cattiva ragazza cattiva bambina adesso mi porta come tipo all'età della cresima o comunione con un vestito tutto bianco come se la sua volontà è quella di essere una bambina pulita pura innocente che non ha potuto essere così no quella ma andiamo nell'entità mentale collettiva in questione fare la donna delle caverne che crea la sua scintilla personale la lascia lì per sé se poi questo ha come conseguenza che si stacca dell'entità mentale collettiva meglio ancora ma vediamo cosa succede non so sento come se stesse aprendo il petto si stesse aprendo il petto si stesse illuminando il petto come se stesse respirando in maniera più profonda più liberatoria la vedo a metà però la metà destra mi rimane scura la metà sinistra è diventata chiara andiamo al cluster penso tanti giullari jolly sai jolly quelli delle carte da gioco matti un po che ridono saltano sì 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 così anche scomposti li teniamo no no che me ne faccio ma è sicura come se per metà fosse completamente sicura no questa metà ma proprio completamente persuasa del da farsi l'altra metà è come se si sentisse tirata giù che tanto non ce la puoi fare no come pensi di cambiare tutto questo casino it's time bad person come se fosse così no con due mani ok c'è una mano che dice best c'è una mano che dice bad person e vedo che va su e giù con queste mani come se stesse pesando i due concetti dei due valori adesso mi fa vedere per esempio che invece la parte destra che è diventata chiara e la parte sinistra è diventata scura ed è nella parte destra che ha in mano dell'oro ok tipo una pepita d'oro e best person di là invece c'è tipo come il carbone ben perso la sinistra ok cosa elimina dei giullari la metà tutti o nessuno tre quarti non pulisce cluster del tutto credo che piano piano alza la mano destra in cui c'è questa pepita d'oro in mano a mano abbassa la sinistra un po un processo che cosa questo rumore monica qualcuno sta spostando i mobili ok è mai così è anche lei e così è un momento di grande subbuglio esattamente come sta facendo con questi rumori che senti le sposta le cose va bene buttiamo i tre quarti e detto si buttiamo i tre quarti portale definitivo via questa parte il passato di andrea resta un quarto chi resta come sono fatti questi giullari che restano ma degli ignomi giullari ignomi brutti molto inquietanti molto oscuri essendo ignomi si riuscissero a insinuarsi proprio perché sono piccolini sono insidiosi e sono molto chiacchieroni no si fanno molto casino quindi sono tutti e buoni nascosti restano perché sono nascosti non restano perché sono piccoli ignomi che fanno il saltello su e poi dopo tornano giù nascondendosi siccome andrea si parla un po non ci lamentava dalla sua bassa statura si dia si regali altri 20 cm di altezza e così a lei quanto agli ignomi non diventati tipo dei cicloti sono suoi vada conoscerli quanti sono si presenti ciao io sono andrea sono anche un po delle fattezze e lui ha paura vuole presentarsi agli elohim adesso lei si fa un po più piccole questi qui sono stanno diventando sempre più alti sempre più lunghi e strano perché alcuni hanno un po fattezze di elohim altre un po fattezze di capre alti alti lunghi vabbè mettiamo un piccolo ad eternum o un ad eternum qua sì nel cluster però è tutta bianca è disegnato a china diciamo questo questa immagine che mi mostra il colore che prevale comunque il bianco vedo solo i contorni a china che sono neri lei o dei mostri tutto e quanto tutta la scena sono più alti di lei però è come se fossero già un pochino più affrontabili c'è già più parità ecco lei si sente già un po di più nella possibilità di fronteggiarli perché alla fine sono un po lei vede che anche lei ha delle armi esattamente consigli hanno loro lei li ha disegnati a con la sua pelle penna stilografica potrebbe recuperare un po di inchiostro di quella penna stilografica con l'inchiostro che ha utilizzato per farli così alti comunque stiamo dicendo una cosa che secondo me è molto produttiva per andrea perché lei ha anche la possibilità di tradurre in maniera artistica tutte queste sue paure le sue ossessioni i suoi pensieri ricorrenti alla possibilità di tradurle proprio in maniera artistica in forme d'arte pratiche concrete il che non solo le dà un gran senso di liberazione ma le farà vedere quanto è brava adesso non li può eliminare nel cluster questi quarto rimanente ne faccio un ritratto unico corale la cosa bella è che come se lei riuscisse a cambiare le linee da cui sono costituite queste questi questi contratti entità riesce cioè a modificare queste linee da che queste linee andavano a costituire questi esseri alti li trasforma come in riccioli ok quindi perdono la loro consistenza e diventano tante spirali quindi sono nel quadro adesso non sono più nel cluster esatto tutti e tutti fissi nel quadro mobili no mobili possono uscire dal quadro sì perché un quadro materico un po animato quadro in gabbia libero non è multidimensionale no 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 e lei prende il quadro lo mette in un portale definitivo se lo fa sì ricordati andrea coltiva la tua vena artistica grafica anche mi fa vedere le mani è comunque che può anche mettere insieme cose tipo un impasto qualcosa così sì 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 ormai l'arte grafica non è più grafica e basta a volte sono quadri con pasti oggetti appiccicati cose che escono pittura e scultura si stanno un po fondendo allora se adesso un bello ad eterno come andrea dio comanda ma quali un portale c'è talmente tanto e grande e luminoso assimilabile a un portale come se lei volesse proprio varcare quella soglia una porta di luce bene ci vada all'avatar passando dal suo portale si ad eterno e come lo fa vedere come un uomo un po bavoso che l'attrae comunque vorrebbe attrarla con dei giocattoli con dei dolci e così domanda lei vuole analizzare l'avatar le interessa analizzare l'avatar quanto è bavoso quanti in giocattoli le offre quante caramelle le offre le interessa davvero voglio poterlo guardare senza avere paura proviamo senza ecco lei ha paura anche del contagio quasi no contagio nel senso come se le caratteristiche di questo potessero essere trasmesse a lei e lei diventa questa roba qua e lei vuole neutralizzare questo lo sai che vedo che tu sei andato lì perché lei ha bisogno di una presenza maschile pura pulita forte ne ha proprio bisogno costruttiva adulta senza fin finalità particolari e che l'aiuti un po a crescere vedo che lei apprezza molto la tua presenza in quel momento adesso ha paura adesso si sente sicura ok guardi bene se c'è della paura e se c'è la toglie va bene tanti ombrelli chiusi perché non lo so questi ombrelli ombrelli sempre io la vedo un po legato sempre alla sessualità maschile al importunare al insidiare l'ombrello accettare un qualcosa che lei non è disposta a ricevere ecco come vedi l'avatar cosa fa come se cercasse di farglieli sembrare attraenti questi ombrelli fa vedere che sono colorati divertenti metta andrea la sua mano destra sulla testa dell'avatar roba sua roba sua e benissima paura e va bene se tu l'aiuti nel fare questo ma io sono presente non devo non devo farlo io posso mano sulla testa mi dica se ha paura se ha paura allora all'inizio come un po di rabbia mi sta soggezione bene blocca la destra sta sulla testa dell'avatar la sinistra toglie la soggezione e l'ha detto paura dal suo corpo emozionale la toglie la mette in un portale definitivo si lo fa da chi la mano destra dalla testa la metta alla gola si e l'avatar si stesso processo come se lo capovolgesse tendi la mano sulla gola lo capovolge emozioni edo che inizia a sentirsi forte potente che può emozioni negative tendo no in questo momento io non le avverto ultimo stato leggero brivido ecco ultimo stato prima di buttare questo fantoccio che non le serve più le metti gli metta la mano destra idea ferri genitali vedo che gli viene un senso di disgusto di dire pulsione spaventa la sinistra lavora e toglie da se stessa queste emozioni portale definitivo aperto pronto a ricevere come lo scarico del lavandino se il fantoccio è vuoto se non serve più questa finalmente mano destra lo butta nel portale definitivo lo scaraventa come quei fantocci di pezza mezzi morti sporchi che giocato il cane bisogna buttarli finale ultimo ad eternum qui nell'avatar dove c'era il bavoso do che se lei si gira verso di te tu gli fai un cenno del capo come a dire io ci sono ma tocca te fai tu sei tu dio anzi vediamo come lo crea fammi vedere andrea quanto sei brava a creare tu che sei artista che mi fa vedere come se volesse ricavarlo dal muro della sua stanza perché come se questa stanza fosse stata sede di tante cose no di emozioni di pensieri di vissuti di lucubrazioni varie e lo ricava proprio dalle mura chiare di questa stanza con le mani come se quasi grattasse il muro e ne fuoriesce un'energia bianco iridescente e la spinge come roteare vedo una dove c'era precedentemente l'avatar e poi ne fa un altro partendo da questo ad eternum che appena creato ne crea un altro da mettere nel portale definitivo e poi un altro come se fosse proprio una specie di lievito madre no quel quella d'eternum originale un altro da mettere nella sua camera e poi diventa per tutta la casa poi diventa per tutto il palazzo e diventa po come per tutti i luoghi in cui lei è stata da quando è nata benissimo meglio di così con queste condizioni moloch il gatto con gli stivali la mantide l'aquila il coccodrillo i quattro scemi edl le tre le quattro entità mentali vigliaccheria florida povertà kraft morbo di kronenberg il progetto divina provvidenza tutti gli impianti tra cui specialmente il mentale neon ci sono ancora non ci sono più però mi viene come se lei non so mi arriva adesso questo messaggio potesse trarre beneficio dalla lettura di fiabe come se queste fiabe che in cui in qualche modo può trovare degli elementi della sua vita l'aiutassero a comprendere come di fatto la nostra vita può essere un racconto è il racconto che scriviamo noi e la nostra vita può diventare un oggetto d'arte una forma d'arte un'espressione artistica queste fiabe possono essere scritte raccontate o anche descritte in un quadro in un'opera l'arte se ne frega la vita migliore quella di uno che se ne frega l'arte e anticonformismo la vita migliore quella dell'anticonformista non quello che dice ma devo fare quello che dice la televisione e ma oggi se non canto non sono nessuno se non ballo non sono nessuno se non sono uno strumento non sono nessuno che l'ha detto la televisione quindi anche no esattamente così nuova frequenza 199 miliardi molto bene non 200 va bene così consapevolezza che era 119 non stiamo scherzando ci ricordiamo che 80 per cento andrebbe bene superati il centro bisogna già essere dei figli e se no non si supera al 100 si è ben al di sopra della più rosea media più rosea media si è un 5 per cento della popolazione forse anche meno sopra il 100 per cento di consapevolezza fai bene a sbarrare gli occhi andrea perché tu non tenere di conto ma tu sei qui oggi tu sei un 1 per cento secondo me anche tu anche esagerando della popolazione che è in queste condizioni un 1 per cento quanto è la consapevolezza circa 185 ps 55 vite 1503 la vita in cui era stata investita da quella che oggi la madre c'è ancora si vedo che la quella che era la madre che l'ha investita arriva a casa poi ha come una sorta di pentimento e torna indietro la scuola si soccorso mi piace quella parola spagnola lo so perché il cervello 11 però 11 ma lei non è una strega lei una maga o una strega buona bad o best person simply the best simply the best dio con la y no con la i nessuno ha scritto con la i perché l'aveva scritto con la y perché la divisa metà si divisa metà confusa su alcuni argomenti questioni che la riguarda perché era come quella frammentata di cantante sia chissà che cosa mi ha fatto la bambina quella lì sì che chissà come mai ha paura fa mostrarsi ma sempre la frangetta che le copre tutto vuole proprio essere una telecamerina che registrato tutto quello che l'hanno fatto questa cosa per fare il personaggio televisivo spettacolo messaggio del cinema possiamo anche chiuderlo è venuta l'altra frangettona britney spears quando hai detto chissà cosa che hanno fatto fin da bambina e solo tu che è un'altra frangettona il cinema francamente a me non interessa più di tanto c'è qualcosa da vedere e diciamo che lei è anche molto giovane quindi di fatto lei ancora popolerà diversamente questo cinema in futuro ci sono i personaggi che arrivano sì 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 tante altre cose succedono nella sua vita cambiando parecchio l'assetto attuale ma infatti anche per quello che non è così importante il cinema di adesso però se lei ha voglia di vedere ci sono delle reazioni degne di nota il padre il padre molto commosso composto però come se allora partecipasse allo stesso tempo con gioia e con dolore per tutto quello che ha visto della figlia però allo stesso tempo ha come la necessità di rimanere composto per mantenere un qualche equilibrio familiare la cucina lassù ha girato le spalle beh può anche saltare giù da dal colosseo può anche andarsene dal cinema si gira le spalle se ne va sì diciamo che ancora per un po non è pronta bene messaggio finale finale di andrea a se stessa sto iniziando a volermi bene davvero sto iniziando ad apprezzare quello che sono e quello che ho scelto ho scelto una vita difficile piena di contraddizioni ma sto iniziando ad apprezzare anche queste è la mia vita però mi fa vedere allo stesso tempo come lei riesce a plasmare la sua vita proprio come se la sua vita fosse un pezzettino di creta vedo che lei inizi a darle una nuova forma perché ha capito proprio che è lei a poter creare con le sue mani la sua stessa vita credo che questa careta da che era grigia diventa tipo pongo colorato giallo è sempre bella della bella e la bestia no è lei e leggi come l'abbiamo vista si pettinata con i capelli raccolti su un lato scusami spostati su un lato che scendono giù su un lato vuole guardarsi allo specchio a fine sessione e va bene però va allo specchio con un tipo dei dei pennelli ecco così degli oggetti un po artistici no per creare arte come se la aiutassero la supportassero per vedere la nuova se stessa mi fa vedere che si cambia tipo piega la tuta e si mette sempre vestita casual però tipo con i jeans le scarpe da tennis pronta per uscire per vivere con un po' più di non so come dirti più di cura ecco per per la scelta dei vestiti che la valorizzano di più si piace guarda si guarda prima di uscire usciamo 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 assolutamente usciamo bene usciamo e allora abbiamo finito disconnettiti monica da tutto e tutti e noi torniamo un po' più un po' più